RTM News Nel senso incendiario Enzo Gernone interviene il sindaco per stigmatizzare l'episodio che rappresenta un brutto segnale per la città sulle possibili infiltrazioni delinquenziali in settori sensibili dell'economia. L'amministrazione comunale è sempre stata attenta e allerta, dice il primo cittadino, per questo motivo il continuo impegno sinergico con le forze dell'ordine e la stretta collaborazione amministrativa, la stretta amministrativa su tutte le attività, oranze funebri, ecologia, raccolta rifiuti che possano essere oggetto di attenzioni malavitose, fanno sì che l'episodio che si è verificato non sia sottovalutato nella sua portata anche simbolica. Scicli dice Gernone, non è questo, Scicli è una comunità laboriosa di persone oneste. I carabinieri della stazione di Marina di Modica hanno deferito in stato di libertà per tentata truffa un giovane di noto. Nel corso, a seguito di una denuncia presentata da una donna, questa aveva raccontato che un uomo si era avvicinato alla propria vettura in marcia, l'aveva mostrato allo specchietto rotto e pretendeva una somma di denaro al fine di provvedere alle spese. La donna si è rivolta con fiducia ai carabinieri che hanno immediatamente diramato le ricerche della Citroen C3 indicata, è una cactus bianca con inserti neri sui lati, che aveva messo in atto l'episodio. Il dispositivo di controllo ha permesso di bloccare nella vicina San Piero il veicolo con un soggetto a bordo. Successivamente un'ulteriore denuncia è stata presentata alla stazione dei carabinieri, aperta tutto l'anno e tutti i giorni, che rappresentava le stesse modalità. Al termine delle operazioni militari hanno denunciato SB di 25 anni, queste le iniziali, per le due tentate truffe. Il giugge per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa Andrea Reale ha disposto l'istanza di archiviazione circa l'accusa di omicidio colposo nei confronti degli indagati, medici e infermieri dell'ospedale maggiore di Modica con riferimento al conducente dell'autocarri in manovra che investì Aldo Agosto, di 75 anni, ciclitano il 24 maggio dello scorso anno. È tutto, grazie per averci seguito, ci sentiamo alle prossime edizioni.